La classifica dopo la prima tappa Sabia 29 secondi, viazione a 1 minuto e 10, cerrato a 1.38 Quest'anno deve vincere la lancia a tutti i costi Per me è stato guidare un sogno I'm doing exactly what you want, it fits so perfectly, it was just like a dream I'm doing exactly what you want Grazie a tutti